Intervento dei vigili del fuoco di Rivarolo e Bosco Nero e della protezione civile dell'equilatero e dei carabinieri di Aglie nella serata di lunedì 29 giugno intorno alle 21.30 in via Galileo Galilei, Borgata Vittoria. L'allarme è scattato perché una vasca in cemento contenente migliaia di litri di liquame posta dietro le stalle della cascina a Mellano ha ceduto riversando l'intero contenuto. Il liquame ha invaso le stalle ed è fuoriuscito invadendo la via, parte della proprietà dell'azienda agricola Celesia e riversandosi nella roggia che costeggia la via. Sul posto è intervenuto anche il veterinario dell'Aselto 4 per ricontrollare le mucche che si trovavano nelle stalle e che sono state investite dall'equame. Ora si doveva provvedere in qualche modo alla rimozione della sostanza. Grazie. 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 Grazie.